Buongiorno a tutti, grazie Erika per questo invito, sono onorata di essere qui con voi e vi parlerò appunto del microbiota intestinale, del ruolo che riveste della salute umana nei diversi momenti della vita. Nel momento di provare, ho fatto un po' di provare, un minuto, bravi, ho fatto un po' di spazio. Ok, che cos'è il microbiota intestinale? Il microbiota intestinale è un sistema dinamico, è stato definito come un ecosistema che esiste in un equilibrio, in una definita regione spazio-temporale. Questo significa che il microbiota intestinale varia da persona a persona e nella stessa persona varia anche nel tempo e i fattori che possono influenzare la modifica del microbiota intestinale sono moltissimi. Il primo, evidentemente, da tenere in considerazione è l'alimentazione e lo stile di vita. In questa immagine ci sono alcune delle caratteristiche fondamentali del microbiota intestinale. Prima di tutto immaginiamolo come una massa di batteri, principalmente batteri. La parola microbiota, che è un termine recente rispetto a microflora batterica, è stato coniato proprio per includere in questo termine microorganismi viventi. Non solo batteri, principalmente batteri, ma all'interno del nostro intestino noi abbiamo anche una minoranza di funghi, di fagi, di virus che coesistono in un ambiente che cambia costantemente anche all'interno dello stesso individuo. Il peso di questa massa batterica, principalmente batterica diciamo microbica, quindi di microorganismi, varia da 1 a 2 kg nell'organismo adulto e lo spazio principale che occupa nell'intestino umano è di circa 300 metri quadrati, quindi circa un campo da tennis, anche di più, perché abbiamo intestini di dimensioni diverse fino anche a 400 metri quadrati. Le ricerche più recenti hanno, adesso vediamo qualche immagine tra qualche secondo, hanno cercato di mettere in correlazione il patrimonio genetico del microbiota intestinale e in correlazione col patrimonio genetico umano, cioè che relazione c'è tra i geni microbici e i geni del nostro DNA umano. Il microbiota, le cellule microbiche che sono piccolissime rispetto alle cellule umane, sono, vedete, circa 10 volte più piccole, ma numericamente le cellule microbiche intestinali sono 10 volte maggiore, un numero di 10 volte maggiore rispetto al numero delle cellule del nostro organismo. E messe in fila potrebbero circondare, se messe in fila potrebbero circondare la terra per 2,5 volte, quindi un numero enorme di cellule microscopiche non eucariote, quindi diverse da noi, diverse da come siamo noi come esseri umani, che noi ospitiamo. Quindi una delle domande più interessanti è, siamo noi che ospitiamo loro o loro ospitano noi? Ancora non sappiamo con perfetta precisione chi è presente dove, anche se la codifica del patrimonio microbico intestinale è a uno stato molto avanzato. Gli studi più recenti veramente danno una mappa, una mappatura sempre più precisa delle specie microbiche che noi ospitiamo all'interno del nostro intestino. Immaginiamo se avessimo una piccola microcamera, le famose PILCAMS che i gastroenterologi utilizzano per indagare il tubo digerente, cominciassimo a vedere dallo stomaco fino al duodeno e al grande intestino, la concentrazione microbica ovviamente cresce in maniera progressiva dall'alto verso al basso. Nello stomaco abbiamo quasi una sterilità, una presenza bassissima di microorganismi, un aumento progressivo nel piccolo intestino, nel duodeno, fino a un aumento e alla grande maggioranza di microorganismi presenti nel colon. In questa parte dell'intestino abbiamo una eterogeneità di microorganismi, abbiamo una predominanza... Parla più piano, non riesce a tradurre. Scusate. Proprio non riesce, proprio piano, piano, proprio piano. E dicevo, se noi osserviamo la popolazione microbica di tutto il tubo digerente, osserviamo una piccola presenza di microorganismi nello stomaco che è quasi sterile, perché abbiamo un pH molto molto basso, nello stomaco abbiamo un pH bassissimo che è intorno a 1-2 a stomaco vuoto, sale un pochino quando mangiamo. Scendendo, arriviamo al duodeno che comincia a vedere la presenza di microorganismi, ma la grande maggioranza di microorganismi è presente nel grande intestino, nel colon, dove abbiamo la più grande numerosità di specie, di generi e di specie. Sono tantissime le specie raggruppate in generi. Questa è la classificazione che si fa dei microorganismi. È stato visto che le specie più importanti sono più di mille. Abbiamo più di mille specie. Questa immagine che vedete a sinistra è un diagramma che rappresenta la numerosità delle specie presenti nell'intestino umano. Quindi guardate solo quanti raggi, quante ramificazioni, a partire dall'inizio, sono presenti. Le più importanti sono più di mille. Tra queste mille specie particolarmente importanti ne abbiamo alcune, poche, vedete, pochi nomi, che vengono raggruppati in grandi famiglie che dal punto di vista tassonomico si chiamano fila. È un termine latino che indica dei raggruppamenti molto grandi di microorganismi. Tra queste grandissime famiglie le più importanti sono i primi nomi che vedete. Firmicutes, Bacterioidetes, Actinobacteria, Proteobacteria e poi via via Fusobacteria in piccolissima percentuale. Guardate le percentuali. 65% Firmicutes. Dentro la grande famiglia dei Firmicutes abbiamo i Lattobacilli. Quindi è per questo che i Lattobacilli, presenti nell'intestino umano ma anche in altre mucose dell'organismo, la mucosa vaginale, la cute, il cuoio capelluto, la mucosa orale, è una famiglia estremamente importante, il Lattobacillus, con tutte le sottoclassificazioni, Acidophilus, Salivarius, Crispatus, che sono importanti in diversi distretti in modo diverso. Il secondo gruppo molto importante è il gruppo dei Bacteroidetes, che nei primissimi giorni di vita sono molto importanti. Il terzo gruppo, vedete già, 5%, molto piccolo ma importantissimo. Quindi non è solo la quantità che è importante, ma è proprio anche la presenza. Nella famiglia dell'Actinobacteria ci sono i Bifidobatteri. Quindi queste due popolazioni, Lattobacilli e Bifidobatteri, sono in un equilibrio molto particolare. Entrambi devono essere presenti nell'intestino umano. Un'altra informazione molto importante, che è stata scoperta negli ultimi anni, con un progetto internazionale chiamato Human Microbiome Project, cioè lo studio del patrimonio genetico batterico, principalmente batterico. Poi gli studiosi hanno iniziato a codificare anche il patrimonio genetico dei virus, dei funghi presenti all'interno dell'intestino. Questa immagine vuole rappresentare che cosa? Una parte centrale, la parte centrale rossa, rappresenta una sorta di nucleo costante che si riproduce nella specie umana e che è simile tra i diversi individui. Noi appartenenti alla specie umana abbiamo una piccola percentuale di microbi comuni, molto piccola rispetto a una grande presenza di individualità batterica. Perché? Perché abbiamo molti fattori che incidono su questa variabilità. Lo stile di vita, l'alimentazione, le patologie preesistenti. Credo che la naturopatia, che siamo qui oggi a ascoltare, a cercare di valorizzare, si ha la disciplina che più di tutto riesce a includere una visione olistica e quindi considerare diversi fattori che influenzano la salute umana e quindi influenzano anche il patrimonio microbico che noi ospitiamo all'interno del nostro intestino. La mappatura del genoma microbico è stata successiva alla mappatura del genoma umano, fatta negli anni 90, più o meno intorno agli anni 90. Grandi gruppi di ricerca nel mondo hanno iniziato e sono arrivati a codificare il genoma umano, il genoma. E sono rimasti un po' delusi dal fatto che la numerosità genetica umana non era poi così enorme. Provocatoriamente in uno dei lavori si diceva c'è una somiglianza tra il genoma umano e il genoma del moscerino della frutta perché noi abbiamo circa 20.000 geni, che sono pochissimi. pochissimi rispetto ai geni microbici, che sono 150 volte maggiori. Quindi abbiamo un patrimonio genetico che non è nostro e che noi ospitiamo nel nostro intestino. Quindi la domanda che adesso è assolutamente affascinante e che non ha ancora una risposta, tanto meno io ho una risposta, ma è importante condividere la domanda, è che interazione c'è tra il genoma umano e il genoma microbico. E se c'è un'interazione, come può questa interazione influenzare la salute e quindi le patologie o lo sviluppo di alcune patologie. I focus della ricerca oggi sono orientati alle patologie cardiometaboliche, l'obesità, il diabete, le patologie degenerative, l'Alzheimer, che abbiamo appena ascoltato. Che ruolo c'è, che possibile ruolo ha il microbiota nello sviluppo di queste patologie? Ne conosciamo molti di geni batterici, ma non tutti. Circa un 60% è noto, una fetta però è ancora sconosciuta. Ed è interessante vedere quali sono le conoscenze raccolte in questa fetta di studio, di mappatura. Abbiamo capito che i geni batterici, principalmente batterici, hanno un ruolo chiave, per esempio, nel metabolismo umano, nel metabolismo energetico. Vi faccio subito un esempio di cosa intendo per metabolismo energetico. All'interno del nostro intestino noi abbiamo la presenza di sostanze chiamate acidi grassi a catena corta. In inglese, short chain fatty acids. Queste sostanze sono normalmente presenti nell'intestino. Si chiamano butirrato, acetato, propionato. Sono prodotte dai batteri. I batteri, come principale, come non unico, ma importante meccanismo metabolico, producono queste sostanze. Che ruolo hanno queste sostanze? Queste sostanze hanno un ruolo nella, per esempio, produzione di energia. Quindi il modo in cui noi, come esseri umani, assimiliamo le calorie, è diverso da uno all'altro. Lo stesso panino che io mangio produrrà in me un numero di calorie diverso rispetto a un'altra persona. Questo dipende anche dai miei batteri, dai batteri intestinali. Ecco perché l'obesità è uno delle materie, è uno degli argomenti molto studiati nella relazione tra salute, quindi metabolismo umano e patrimonio batterico. Queste sostanze, questi acidi grassi a catena corta, hanno anche un ruolo, per esempio, nello stoccaggio dell'energia, cioè in come noi incameriamo e stocchiamo l'energia. Quindi possiamo trasformare in grasso una quantità maggiore o minore anche in base ai nostri microbi intestinali. Un'altra cosa molto importante è legata al controllo dell'appetito. Quindi oltre alla cascata ormonale che regola l'appetito, c'è anche un ruolo dei batteri nella percezione della fame e della sazietà. Ancora questa immagine più dettagliata, che rappresenta, non è importante il dettaglio, vi dico io il significato. Il significato è che questi acidi grassi a catena corta regolano anche la produzione di colesterolo. Quindi la presenza o meno di alcune sostanze, tra questi acidi grassi a catena corta, può determinare una regolare o non regolare produzione di colesterolo da parte del nostro fegato. Vi dicevo, il microbiota intestinale ha un ruolo importante nel metabolismo, ma l'altro grande pilastro di relazione tra microbiota e salute umana è il sistema immunitario. Il sistema immunitario è un complesso meccanismo che regola la nostra salute, che interagisce col sistema ormonale, col sistema endocrino, col sistema neurologico e ha sede in diverse parti del nostro corpo. La principale sede di attività immunitaria è l'intestino. I 300 metri quadrati, che diventano anche 400 a seconda delle diversità intestinali, ospitano un'attività immunitaria costante, innata e adattativa. Sono due termini che hanno un significato sinergico. Innata significa a specifica, cioè la mia capacità immunitaria di combattere, di proteggere contro qualsiasi agente patogeno, sostanza non gradita, quindi può essere una tossina, un derivato alimentare, uno scarto, una metabolita di un farmaco. Questa prima barriera, questo primo livello di difesa è a specifico. Nell'intestino immaginiamoci uno grande strato occupato da moltissimi batteri che riescono a creare una film, uno strato, una vernice protettiva e riescono a produrre continuamente sostanze difensive, che si chiamano batteriocine. Ma i batteri hanno anche un'azione più intelligente, selettiva, verso uno specifico antigene. E questa seconda modalità si chiama risposta difesa adattativa. Cosa fanno i batteri? Comunicano strato, mucosa intestinale, batteri sopra, cellule immunitarie sotto, i batteri non vanno nel sangue, i batteri stanno sopra, sotto dal sangue arrivano le cellule immunitarie, ma c'è un dialogo tra i due, c'è una comunicazione. I batteri riescono a guidare la produzione di anticorpi che avviene a carico delle cellule che arrivano dal torrente ematico. Quindi parliamo proprio di una risposta immunitaria, quindi di una produzione di anticorpi immunoglobuline, guidata anche dai batteri. Tra le immunoglobuline, le più importanti a livello intestinale sono le IGA. Il ruolo del microbiota... Vado troppo veloce? No, c'è un problema proprio della traduzione, penso. Volete che mi fermi un attimo? No, vai più piano, che ne so. Vediamo. Provo? Ok. Dicevo, il ruolo del microbiota nella salute umana parte veramente dalla nascita, anzi da prima, parte durante la gravidanza. Il momento della nascita è un momento fondamentale in cui il microbiota viene in qualche modo guidato. Già prima dalla mamma, dal microbiota materno, e durante proprio l'atto della nascita, il futuro essere umano, passando dal canale da parto, viene colonizzato per la prima volta. Ci sono molti fattori che influenzano questo momento. Il primo fattore, il fattore più importante è il microbiota della mamma, ma non è l'unico. C'è io, ti aiuto? C'è io, bom jo sprevajala, zdravim, da boste malo boli razumeli. C'è? 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 Il terreno quasi vuoto viene colonizzato per la prima volta. Quel momento è un momento fondamentale e il modo in cui le specie batteriche colonizzano questo terreno quasi sterile determinerà poi anche lo stato di salute e lo sviluppo dei primissimi giorni, settimane, mesi di quel bambino. C'è? Sant av essentially per aree è cucina della meist uhone Andrew materin in treblum. Non entendeu? È first utan servicio delle faminioffere molto attούrialmente fondamentale dopo questo altro pagamento dell'euroroso di TOEQ처akerTI. C'è la causa, che si establezze dei primiti italiani dell'examen мыс crema della steryll... C'è la base che mantenne questo imprinting ecclesi del mercato delle squadronizmo utilizzato? questo allenamento microbico è il latte. Il latte materno che è di per sé un alimento probiotico. Perché? Perché contiene anche il microbiota della mamma attraverso i canali linfatici. Il microbiota intestinale della mamma riesce ad arrivare ai dotti galattofori, quindi al latte. C'è una piccola riflessione. Questa descrizione è la fisiologia, è l'ideale normalità di un parto. Pensiamo a un parto prematuro, avvenuto non in condizioni normali, non attraverso il canale vaginale, per esempio. Ecco perché nella prematurità si fa sempre più avanti lo studio di che ruolo ha il microbiota, come poter simulare l'incontro microbico che nella normalità avviene. Quindi le banche del latte, ma anche gli inoculi di microrganismi in una neonato che ha una condizione immunitaria precaria anche per il non incontro microbico. E poi pensiamo, come è, quando abbiamo un autore, un autore, che si rodi, recimo, con starsi ame, non in vaginali. Quindi, in questo caso, non abbiamo un autore preno, in svezzanosti, perché c'è la ragione della ragione della ragione della ragione della ragione, perché fisiologico non è possibile, perché non è donoce, quindi non è donoce, non è donoce, non è donoce, non è manca, ma non è manca, non è manca, non è manca, non è manca. Sveglia di znanosti studiare, non è manca in questo senso. Eccola qua, un riassunto. Quindi alla nascita abbiamo una funzione innata, un inizio immunitario legato proprio all'incontro tra i due microbiota, tra il microbiota materno e un inizio di colonizzazione del neonato, abbiamo un passaggio passivo di immunità attraverso il latte, abbiamo un inizio di attivazione immunitaria da parte del bambino già dalle prime ore, dei primi giorni di vita, legato proprio a questa progressiva colonizzazione. Quindi la parte passiva viene piano piano sostituita dalla parte attiva. Tore, dejansko, ta prehot, kjer je taj immunski spomin, kjer mama preda informacijo telesu, temo majhnemu telesu, prvi taj imprintik, prvi dejansko informacijo o graditvi immunskega sistema. Passivna vloga, prehot. In pol, kadr začnemo graditi skozi dojenje, kadr začne graditi immunski sistem dejanski, učrevesiu otrocička postopoma. E come vi dicevo prima, l'attività immunitaria estremamente importante anche nelle prime fasi di vita è la presenza delle immunoglobuline A, che sono così peculiari dell'intestino. Perché sono importanti? Perché sono legate alla cosiddetta tolleranza orale. Lo dico dopo, cos'è? Dejansko, v prvem stadio, v prvem tednu življenja, v prvih mestih življenja, so najbolj pomembne immunoglobuline tipa A. Zato, ker one dejansko so ta akter krepitve immunskega sistema in immunskega spomina pri otroku. Le immunoglobuline A sono responsabili dello sviluppo della toleranza da parte del neonato. Cosa vuol dire? Il bambino sterile non tollera niente. Perché è sterile? Deve imparare a tollerare. La guida a questo imparare è il microbiota, prima materno e poi il proprio, e la produzione di immunoglobuline A. Otro xero di sterile, in dejansko je intolerantan nause, je obciut liu nause, zato ker nimano bene ot pornosti, ot portarana, come rekli. Zato, su se primenain. In sote materino mleko, in ta prvi imprinti, che s temi immunoglobulini tipa A, che se proizvajajo in poločrevesio, che dejansko mu dajajo prvo barriero, prvo brambo. In tako se potem immunske sistema, il microbiota, che se nači, in se začne graditi. Zato so ključne o otro što ste immunoglobuline tipa A. Ključne. Questo studio ha evidenziato che anche prima della nascita, questa je una cosa veramente fantastica, secondo me, prima della nascita c'e gia un dialogo microbico, diciamo cosi, tra mamma e feto. La placenta ha un suo microbiota. Dejansko da je ta studia che vidiste tu, Dejansko govorí pro tem kako je dialog je u trebuchu med microbiota otročica in mamma kako je obstaja kako obstaja dialog med temi dvemi. E questo microbiota placentare je stato confrontato con i diversi microbiota, quindi salivare, urogenitale, cutaneo e si je trovata la maggior similitudine col microbiota orale, quindi l'importanza e anche il significato che si cerca di dare alla similitudine tra microbiota placentare e microbiota orale. Orale, non come saliva? Della mucosa. u slovo, Dejansko se je pocaza la velika podobnost met microbiota placente, de u pro slovenskis razmin apride, placente, ecco, valla, in sluzi ust, ne sline, sluzi u ustni votlini. e un'altra scoperta recente è anche legata al liquido amniotico, quindi il sacco uterino che ospita il feto anch'esso non è sterile. Tutti i materni maternizia non è sterile. E sono state individuate dei marcatori delle sostanze provenienti dal microbiota materno, quindi parliamo di gravidanze non fisiologiche, quindi non con una infezione, quindi non sono sterili nel senso che non c'era un'infezione, ma c'era presenza. Che cos'è che il secondo fattore, quindi l'incontro mamma-bambino a livello microbico, il latte, l'altro momento chiave è lo svezzamento, ovviamente, che fa cambiare ancora in maniera importante il microbiota. Crede se il microbiota spremenito rismo recli utre bucu, obroistvu impotem se usnossom tardihrane, naprivaenie tardihrane. E anche nell'età adulta, quindi evidentemente nella fase evolutiva, quindi il neonato fino ai primi sei mesi di vita, ha già una grande evoluzione a livello microbico. Il secondo momento chiave è lo svezzamento, ma anche nell'età adulta abbiamo studi e prove che dimostrano che l'alimentazione modifica velocemente, anche nell'arco di 24-72 ore, il microbiota. Quindi cambi alimentari in senso positivo e negativo influenzano significativamente il microbiota. microbiota si stavliano in microorganismi che deluano, che sono живi, che si stanno spremiando in migraniamo. In studie e nel caso che 12-24 ore al 24-7 ore siamo meno per il crano se meno microbiota, siamo grandi popolazioni e bacterie. In microorganismi. tanto che il microbiota è stato definito come un fattore epigenetico capace di conferire adattabilità e resilienza all'organismo umano. Cosa vuol dire fattore epigenetico? Fattore che da fuori riesce a modificare, a guidare lo sviluppo del nostro genoma. Dottore, daiamo po' meno microbiota daiamo po' meno epigenetri fattori. Che po' meno epigenetri fattori, dopo meno da is zunaniosti che siamo govorili o crani, uplivamo notraniost in l'acqua damo spremenimo immunski sistem cloveka. Prima avete ascoltato una relazione molto bella, una delle domande era sono solo nel sistema nervoso nel cervello i neuroni? No, non sono solo nel cervello, ce ne sono moltissimi milioni milioni anche a livello intestinale. E questo crea una relazione, una comunicazione bidirezionale, cervello intestino, intestino cervello, quella che viene chiamata gut brain axis, è proprio continuamente un dialogo tra i due cervelli. Gut brain axis è un dialogo che si 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 e e quindi la domanda che ruolo ha il microbiota nella salute umana se vogliamo dividere in diverse fasi della vita ha un ruolo in tutte le fasi. Microbiota di gestazione nella vita prenatale abbiamo già una comunicazione un primo imprinting quindi il futuro microbiota risente certamente di chi ospita di chi lo sta generando cioè della mamma successivamente viene anche trasmesso microbiota durante l'allattamento materno ovviamente nella fase della vita adulta parliamo di attività di relazione ma anche pensiamo a tutta la sfera urogenitale e al ruolo fondamentale del microbiota quindi da diciamo che da come è una comunicazione med nosecno in fetus med microbiota poi comunicazione pri porod di pomembna microbiota pomen microbiota med dojen in se vede in faze življenja tudi staranje zato ker è povesano con gorni in spodnji možgani e nella fase matura della vita un elemento che va osservato con attenzione è la maggior fragilità del microbiota nell'età adulta nell'età matura nella terza quarta età perché quello che può venire a mancare a diminuire è l'unicità di quel microbiota che viene chiamata biodiversità cioè la mia biodiversità microbica può essere minacciata può essere indebolita questa è la caratteristica da osservare nella fase avanzata nell'aging nell'invecchamento kaj se dogaja v starosti je problem diversitete biodiversiteta mikrobiote to bomeni v mladosti v otroštvu imamo več različnih sev in to je dobro več različnih sev ko je delajo malo povsod ko se staramo se ta različnost manjša ostanejo samo eden dva in naše prizadevanje mora biti to tudi naturopata dohraniamo cim visio biodiversiteto u cim cim bol ustare cim obdobius to ker polbo momeli bolši muskansi quindi con questa visione ovviamente un elemento che può influenzare lo sviluppo di moltissime patologie è anche il microbiota non solo ma anche il microbiota per cui dalle patologie gastroenteriche che sono ovviamente condizionate per anche logistica per vicinanza al microbiota intestinale ma anche le patologie immunologiche neurologiche fino alle patologie tumorali abbiamo sempre una chiave di lettura una correlazione col microbiota intestinale vsaki degenerativnem obolenju dejansko imamo povezavo z microbioto tako ker smo videli tam se pač vse skupi začne in ma svoj pomen vsakem obdobju življenja in dejansko jo lahko ne samo ampak dejansko usakem obolenju moramo obbraunavat in povesat in dejansko dat posornos to di microbiota e in particolare se pensiamo all'invecchiamento all'aging cos'è che succede questa immagine grigia verticale vuole rappresentare la diversità del microbiota dall'inizio della vita fino all'aging e vedete che c'è un momento di semplicità microbica iniziale un massimo sviluppo cioè l'età adulta come massimo momento di equilibrio legato a tante diverse specie in equilibrio e questo equilibrio tende ad essere compromesso nell'ultima parte dove abbiamo un rimpicciolimento cioè una diminuzione delle specie quindi quindi vediamo tukaj če pogledamo to sivo sliko vediamo tle v zgornjem obdobju otroštva in cui imamo nekaj različnih mikroorganizmov potem imamo en velik del ki je dejansko odraslo obdobje in harmonija idealna in to harmonijo je fajn pol ohranja čim dlje starost zato ker tle automatsko se zmanjša ideansko nimamo te več biodiversite guardate che proprio nell'avanzamento dell'età vengono a diminuire i bifidobatteri e aumentano specie che nell'età adulta sono molto piccole quindi un rischio di infiammazione intestinale latente silente maggiore tore ideansko vidimo da ustaresjam obdobju zmanjša pro bifidobacterie in ostanijo drugi sevi ki so manjši in te nam nič ne pomagajo oziroma da puščajo možnost da se unetje čip prej sproži unetje seveda sproži pol boleznje č č cerchieti colorati rappresentano le principali famiglie di microbi nel bambino neonato ragazzino adulto anziano solo per dirvi che le cose cambiano durante la vita come abbiamo visto prima e specie che dovrebbero essere molto poco rappresentate nella terza età aumentano aumentano e altre protettive diminuiscono Zdaj vidite tle je tako malo boli reprezentativno pokazano pokazano che queste vrste microorganismi skozi celo življenje spreminjajo in kako polo staje ustarosti neka takih microorganismi che nam neč ne pomagajo Ok Perché ci preoccupiamo o vogliamo sapere che equilibrio c'è in un soggetto sano piuttosto che in un soggetto malato dal punto di vista microbico perché abbiamo capito che c'è una relazione diretta tra equilibrio microbico e stato infiammatorio di di kako raziskovalci se zanimajo za te populace microorganismi ucce vesio pri zdravim in pri bonen ciloveku zanimljiv 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 questi possono immediatamente produrre sostanze infiammatorie, quindi creiamo uno stato infiammatorio che alimenta lo squilibrio microbico, un circolo vizioso, infiammazione, disbiosi, disbiosi, infiammazione. Se così mi stavamo a cricere le quadratne metri nostre trevesne povrci, che si rossiramo 300-400 metri di absorb discharged, dopo quanto sono capaci in una harmonica, in che so tam evoluzione, in sei bevano in un evento. Quando le popolazioni non sono pravilne, oziroma porazio, ne pravilne, ne pravilni migliorano i misi, takrat sproggio unetie. Unetie sproggio disbiosi e poi se in crogu ne pravilnosti to vrti. Sapete cos'è che cambia in maniera significativa quando abbiamo disbiosi cronica il pH? Il pH che Erika probabilmente vi parlerà o vi ha già parlato e se non l'ha fatto lo farà di sicuro. È un parametro di salute e è influenzato dalla disbiosi, quindi squilibrio microbico, alterazione di pH. Adesso scorreranno alcune immagini che confermano la relazione tra salute ed equilibrio microbico e infiammazione cronica e disbiosi nelle diverse fasi della vita. Per cui abbiamo visto la nascita, l'invecchiamento. Pensiamo, come abbiamo già detto prima, alla gravidanza. Durante la gravidanza gli esiti stessi della gravidanza, quindi o una rottura prematura delle membrane o una gestosi o appunto un parto pretermine sono influenzati dal microbiota urogenitale. Cioè lo stesso ragionamento fatto, immaginiamolo, nella mucosa urogenitale. Torej, dejansko, zdaj bomo vidli zdravstvene raziskave, ki potrjujejo to dejstvo, da nepravilne populacije mikroorganizmu vplivajo na unetje in na pH in to lahko dejansko nepravilne populacije sprožijo tudi predhodno porod in druge težave, ki so pri nosecnosti. Questi lavori confermano la correlazione. Un ulteriore elemento importante, sto per concludere, a livello urogenitale, quindi questo scenario microbi, mucosa, relazione con l'infiammazione, a livello urogenitale è particolarmente importante se pensiamo a dove abitano i microbi. Torej, taa korelazia, jeselopomembna, c'è, mi rasmišljamo, ki je živio, ki je senakaio te i mikroorganizmi, ki je se dobio? Dove abitano? Abitano all'interno di una specie di gel, non sono liberi di muoversi. Questo strato si chiama biofilm e un biofilm può essere buono o cattivo. E l'alimentazione del biofilm, cioè il mantenimento di un buono o cattivo biofilm, dipende da che batteri ci sono dentro. Se ce ne sono più di buoni, abbiamo una barriera buona che si difende. Se sono patogeni, cattivi, abbiamo dei biofilm cattivi. Torej, konkretno, te mikroorganizmi niso kar tako slučajno razpršeni po vsod. Mi navadno rečemo, da se nahajo na sluzeh. Na sluzeh je, na sluzeh prebavnega trakta, bronhjalnega dela ali karkoli, imamo ta biofilm, je ena taka želatina, kjer noter so locirani ti mikroorganizmi. Glede na popolazze mikroorganizmu, č č so dobri, govorimo o dobrem biofilmu, č č nisot qua qualitetni, dobri da spročio netto, govorimo o slavrem biofilmu. E quindi dalla nascita, dal lato più affascinante, emozionante, al versante più critico della medicina, quindi dell'approccio alla salute, anche nel cancro, abbiamo moltissimi elementi di relazione, di influenza del microbiota sull'inizio, sostanzialmente, sulla genesi tumorale, č č č uno stato infiammatorio. Pri Dejansko neoplasiji, mamo Dejansko, je dokazano da je microbiotisti, microbiotisti, ki sproži ta proces za spravim unetnim procesam, koga on aktivira. E il microbiota influenza anche l'effetto dei trattamenti chemioterapici, di qualsiasi trattamento antitumorale, sempre in una maniera circolare. Il trattamento altera il microbiota, il microbiota, una volta alterato, farà rispondere in modo diverso quell'organismo al trattamento stesso. Tore, Dejansko farmacološke kuretko, koe lakotudina chemoterapia, uplivai o spetna microbiota, kese porusir, kese porusir a un ovestje, integratse spet sprogi novo unetje, into, mamo spet croc, kese nigdar ne, concia. Il messaggio che voglio lasciarvi non è ovviamente che il microbiota è la soluzione, la panacea, non è così come i probiotici non sono la panacea. Cos'è un probiotico? È una preparazione a base di microbi benefici concentrati che può avere sicuramente un ruolo nella contrastare lo stato infiammatorio e quindi nel guidare il miglioramento in uno stato patologico. Ma questo ovviamente in un contesto di valutazione holistica, in un certo tipo di alimentazione, stile di vita. Il microbiota da solo non determina la vita e la morte, il probiotico da solo non determina la guarigione o la malattia. No, zdaj, ajde, lepše ne bi mogla zaključevati. Kultko, glede na to, da je raziskovalka in farmakolog, che dejansko pravi, microbiota je pomemben, nipa vse, važno je da vidimo pač celosno človeka, da vidimo stil življenja, prehranivalne navade, da vplivamo tudi da to, ne da samo mu ubrizgamo v telo določene seve. Vi lascio con questa affermazione che mi ha molto colpito quando ho letto questo articolo e che mette in relazione il possibile ruolo del microbiota nelle patologie degenerative tumorali, soprattutto osservando il ruolo del sistema immunitario in questa fase di totale alterazione, che je, diciamo, la patologia oncologica. Vespoščam za stem, za stem zapisam, che mi je bilo zelo drac in me, je tudi zelo presenetiv, da dejansko pri raka vemo bolegnu in enem takim stanju, kjer je porusjen imunski sistem, o pomenu microbiota. In questo lavoro si ipotizza di considerare la problematica immunitaria nel cancro in un nuovo modo, quindi una nuova visione completamente diversa che gli autori definiscono come una ipotesi microbiota centrica, cioè partiamo a osservare il terreno dove nasce una patologia e non l'elemento da combattere. Quindi ritengo che in un congresso di naturopatia questo tipo di osservazione fatta da persone che forse non sanno neanche cosa vuol dire naturopatia, sia veramente, quantomeno, un buon auspicio. Pravi, ajde pravi te ko, da ta signal pri de dejansko i sveta znanosti, ki ne ve kaj pomeni naturopatia, ma se dobro poveže uto z dei naturopatsko okolje. In dejansko so znanstveniki, ki so rekli, probiamo mi pogledati baso, teren, na katero bolezen zraste in ne samo bolezen. Grazie della pazienza anche in questa traduzione. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.